Nella bella giornata di sole dell'8 dicembre vogliamo vedere l'effetto dell'ombra di una tenda con trama sottile di un millimetro le più piccole a 20 centimetri da questa tenda e poi mano a mano che ci allontaniamo vediamo che i dettagli si perdono. Bisogna avvicinarsi di nuovo a 20 centimetri dalla tenda per poter vedere i dettagli. Questo perché il disco solare ha un diametro di 32 minuti e mezzo di arco e quindi la luce portandosi a una distanza maggiore va a cancellare a causa di questa differenza di angolo i dettagli più piccoli. Quando il sole verrà occultato da una casa allora avremo che negli ultimi fasi dell'occultazione il diametro efficace sarà di 4-5 minuti d'arco e l'immagine sarà molto più netta.